Ma a me non mi piacciono i mangiapasta come Sfera e baffa, quindi ti dico sì ma è chiaro. Quando correvamo nel blocco... Tu sei quella famosa che dice Sfera e mangiapasta? Per milioni di euro saresti capace di dare uno schiaffo a tuo padre? Chiaro, billone. Perché? Sono povera come la m***a, d'acqua. Allora, mi chiamo Luis, sono il manager di Bebetush e diciamo anche di *** perché gli ho dato vari consigli per fare certi video per dare appunto virali. Bebetush ha poco più di 20 anni, ha 190.000 follower su questo social, originario del Mali, è arrivato in Italia attraversando il Mediterraneo qualche anno fa. Ora, grazie all'aiuto di Luis, vive e guadagna facendo video come questi. Yo, cosa fai? Oi, oi, oi. Con questo lavoro vedo che in due mesi più di 5 miliardi li abbiamo fatti. Sei un'influencer? Sì, sì, sono un'influencer, sì. Da partutto che vado, capito, appena mi vedono, capito, e dicono, eh, ma quello che ha fatto video con quel bambino, capito, mi ha fatto conoscere da partutto. Il bambino di cui parla Bebby ha 12 anni e sui social è famoso per aver girato con lui questo video. Però ma a me non mi piace il mangiapasta come stare basso. Ciao, piacere, Giorgio. Sì. Giorgio. Grazie, fai? Secondo. Fai la seconda media? Sì. Ti piace studiare, eh? No. Sta diventando famoso? Lo sono già. Pochi giorni dopo essere diventato famoso è stato protagonista di questa rissa. Praticamente lui mi fa, mangia pasta, così mi prendevo un po' per il c***o e io mi sono in c***o e ho iniziato a insultarlo e dopo è successo. Che è successo? Hai avuto paura durante la rissa? No, dai, è una cosa normale che capita e può capitare. Guardatevi la mano. Quali sono i tuoi obiettivi? I soldi. Oltre ai soldi niente, nient'altro. Cioè tu vuoi solo fare i soldi? Solo. Gli stessi di chi parla in questo video con un altro influencer, King Adams, 18 anni, maliano, in Italia da 10. Ultimamente sto facendo interviste se per un milione di euro saresti capace di dare uno schiaffo a tuo padre. Mi ha risposto ovviamente certo perché sono povero. No, non lo farei, era giusto per far ridere. Il padre è arrivato qui in Italia dalla costa d'Avorio prima della sua nascita. I tuoi genitori cosa pensano di questo tuo percorso social? Niente, mio padre è un po' c***o. La madre mi dice basta che porti i soldi a casa. Perché tuo padre è arrabbiato? Perché dici tipo che non devo insultare, non devo fare così, devo continuare a studiare, non devo fare queste c***o. Luis lavora con Baby Tush e in due mesi hanno guadagnato più di 5.000 euro e garantisce di poter far crescere anche lui. Quindi sì, ne sono sicuro. L'anno prossimo potrebbe guadagnare 5.000 euro al mese. Anche di più, non c'è entrata in tutto. Puoi avere anche 10 anni se ha un determinato numero di follower alla gente. Basta che tu hai gli occhi addosso, la gente guarda questo, capito?